Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Oggi siamo in compagnia di Renata, che ci aiuterà in un vocalizzo di 5 note più un arpeggio, che vi facciamo sentire. Il vocalizzo sarà questo. E lo facciamo pensando di spostare la risonanza dalla M, a bocca chiusa, alla N. Sempre restando bocca chiusa, quindi sarà... Per donne, per le donne... Ok. Come sempre, partiamo dalla voce più bassa, quindi dai bassi e contralti per quanto riguarda le voci femminili, e poi andiamo fino su e ritorniamo. Facciamo, diciamo, tutto un percorso. Voi, ovviamente, se per voi è troppo basso l'inizio, aspettate a partire. Se è troppo alto il punto dove noi arriviamo, fermatevi fin dove ce la fate senza mai sforzare la voce. Ok? E solo per riscaldare i vocalizzi servono... I vocalizzi servono per riscaldare la voce, non per affaticarla, ricordiamoci. Allora, iniziamo da... Dai bassi... Dai controlli... Andiamo! Dai cię... Dai, dai... Dai, dai... Dai. Dai, dai, dai... A presto. A presto. Arrivato a questo punto, provate, se magari è un po' alto, prima quello con i femminili, ad alleggerire l'auce, tipo come se fosse un falsetto. Prova. Ho sentito come ha cambiato da... Proviamo ad andare avanti così, più leggero. Sì. 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 kümpare le notifiche in modo da guardare subito i nuovi video che escono. È che dire vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao.